Dopo la live con Alessandro Cardella, in cui abbiamo parlato di chatbot, oggi ho il piacere di avere il live con me Luca Bove. Luca è un consulente di local search marketing con una lunga esperienza in ambito SEO e questa ci parlerà di digitalizzazione delle attività locali e di Google My Business. Ciao, buonasera a tutti qui chiusi in casa. Vabbè, insomma, quello che hai detto già te, vengo da una lunga esperienza SEO, lo faccio dal 2000. Dal 2007 ho iniziato a occuparmi un po' della parte local e da 4-5 anni, non mi ricordo di preciso quanto, me ne occupo praticamente in maniera esclusiva, quindi tendenzialmente attività di local SEO, di local search marketing con obiettivi drive to store, cioè portare gente nei negozi o, come dice Google, con obiettivi in person visit, cioè avere o una persona che viene nei punti vendita, quando riapriranno, oppure una persona, ad esempio un idraulico, un tassista, una consegna a domicilio, va presso la sede del cliente. Quindi in person visit raccogli un po' tutto tendenzialmente. Ho creato Local Strategy, quindi di cui mi occupo, che è una società che si occupa esclusivamente di local search marketing, principalmente in settori complessi, con obiettivi anche ambiziosi. Abbiamo una piattaforma di automazione per catene o per chi ha molti punti vendita, che automatizza una serie di attività, diciamo, pallose. Prima di cominciare a parlare di Google My Business, ti occupavi di SEO, e con l'uscita appunto della local SEO, quindi della SEO per le attività locali, ti sei specializzato in questo mondo, che in realtà, a mio avviso, è molto sottovalutato, nel senso che ci sono tantissime cose che si possono fare col local marketing, con la local SEO, che le attività di fatto non conoscono. Ricordo qualche anno fa tu mi parlassi, ad esempio, delle triangolazioni di Google che riescono a capire quando una persona entra all'interno di un negozio, in un centro commerciale, grazie al Wi-Fi. Ci puoi dare qualche indicazione in più su queste cose di qua, intanto? Prima di parlare proprio di My Business. Sì, tendenzialmente il Google è installato, possiamo dire, su quasi tutti i cellulari, delle persone, quindi tutti i cellulari hanno Google, hanno Gmail, o hanno qualche altro servizio di Google. Quindi Google, in realtà, lo fa anche Facebook, lo fanno anche in Italia, lo fa dove conviene, che guarda caso ha fatto l'app per prevenire le file, chissà perché. Quindi tendenzialmente, avendo installato su tutti i cellulari, sa come ci muoviamo, ok? Sa dove andiamo. Quindi, tutte queste enormità di dati, Google li raccoglie, li mette insieme, li anonimizza per questioni di privacy, però sa effettivamente dove siamo andati, quali sono, che ne so, i ristoranti nostri preferiti, quale cucina ci piace, e sono informazioni che poi usa, li usa, ad esempio, sotto alle schede c'è gli orari di maggiori visita, quelle lì, le informazioni le prende dai cellulari di tutte le persone che sono lì, oppure sull'autostrada ogni tanto ti dice, cioè io l'estate andavo tipo in Riviera Romagnola, parto da Reggio Emilia e c'è, per la Riviera ci metti un'ora e quaranta. Sono tutte informazioni che prende da tutte le persone che sono in macchina sull'autostrada, le mette tutte insieme e le fa. Quindi le informazioni le prende dal cellulare tramite le celle telefoniche dell'operatore di settore, tramite il collegamento con il Wi-Fi, tramite il GPS se è attivo e tramite altri sistemi che lui riesce a, altri dati che riesce a, diciamo, a catturare. Li mette tutti insieme e poi gli dà impatto al suo algoritmo. Lo fa anche Facebook, ripeto, questa è una tecnologia non mai conosciuta, in Italia dove conviene, ma anche altri, lo fa anche TripAdvisor, tutti quelli che hanno un'app installata e raccoglie queste informazioni, le raccoglie, le raccoglie. Quindi, vediamo. Chissà se magari una tecnologia simile potrebbe anche essere utile per uscire fuori dall'emergenza sanitaria Covid-19, ad esempio. Tu dicevi giustamente che i dati sono anonimizzati e quindi in realtà il servizio Google non sa esattamente che Valerio Novelli si trova in quel negozio, cioè a quell'oro, o quantomeno sa che c'è Valerio Novelli in quel negozio, ma non ha il dato Valerio Novelli, ha un dato aggregato dell'utente, non riesce a collegare questi dati. Il Google sa che Valerio Novelli, come si dice, tant'è che se te vai su Google Maps, al menu a tendina c'è una voce che è spostamenti o la location history, insomma, e lì ti fa vedere tutta la tua history di dove ti sei mosso. Poi la puoi anche disattivare, per carità. Quindi lo sa. Al pubblico o all'azienda li dà informato assolutamente anonimo per questione di privacy. Quindi ti dice oggi in negozio sono entrati 340 persone, ma non ti dice chi. Però lui sa chi fa, insomma. Tant'è che, per esempio, sui ristoranti, sulle schede dei ristoranti, da diversi mesi c'è anche un pallino del grado di affinità. Il grado di affinità lo calcola in base alle recensioni che hai fatto e in base agli altri ristoranti in cui sei andato. Per cui te dici, io racconto sempre la prima esperienza che è stata lo scorso estate. Siamo andati in Baviera all'Allegoland a portare mio figlio. La sera uscì, appena arrivati, per cercare un ristorante e mi dette il primo ristorante è a un chilometro di distanza. Ho detto, vabbè, prendiamo la macchina. In realtà, mentre digitavo, davanti a me c'era un ristorante greco che si chiamava appunto Meteora. E Google non me l'ha fornito perché personalizza anche i risultati. Cioè, in un ristorante greco saranno 4-5 anni che non ci andavo, per cui non me l'ha manco proposto, nonostante fosse di fronte a me. Sì, quindi mi ha personalizzato i risultati in base a tutti i ristoranti in cui vai, quindi ristorante tipicamente italiano, pizzerie, qualche volta giapponese basta. Quindi questo qui lo fa. Poco fa dicevi che Google dà all'attività, alla struttura locale, il dato statistico, ad esempio, di quante persone sono entrate in una giornata. Questo dato statistico può essere sfruttato, ad esempio, per fare pubblicità su quelle persone, anche se non sanno chi sono quelle persone, dalle attività. Allora, questo dato lo dà solo per le piccole attività se fai campagne Google Ads. Se fai campagne Google Ads ti attiva un report che è proprio entrato in negozio Visit Store Insight. Oppure lo dà alle grandi catene, più strutturate, e lo attiva anche in Google Analytics con una procedura che non è proprio banale, però lo attiva. A quel punto si possono fare delle attività mirate, sì, si possono fare. Però ecco, non è attivo per tutti, bisogna avere Google Ads, bisogna avere oppure strumenti un pochino più evoluti, quindi essere una grande azienda con molte sedi, e a quel punto lì qualche tipo di attività si può fare, sì. Però banalmente io picco l'attività locale, potrei fare una campagnetta su Google Ads mettendo un budget minimo ed avere questi dati, giusto per poi sfruttarli in qualche modo. Sì, su Google Ads ci avrai proprio la colonna apposita per queste cose qui, sì. di digitalizzazione delle attività local. Ti spieghi cosa è Google My Business? Google My Business è il programma di Google che permette, proprio secondo quello che dice Google, di mettere in contatto clienti con i proprietari di attività che operano localmente. L'incontro è un incontro che è fisico per Google, quindi proprio fisico, perché lui dice che l'obiettivo è far incontrare le persone proprio dal vivo. Quindi o un cliente va nel ristorante, nel negozio, nel centro medico dal professionista, oppure c'è un'attività che si muove verso il cliente, tipo conseglie a domicilio, tassisti, idraulici, eccetera, eccetera. Quindi il Google My Business è questo programma di Google che è gratuito nella versione base e che permette appunto di inserire la propria scheda che è diventata a tutti gli effetti un piccolo sito web sulle proprietà di Google. Quindi appare sempre, appare quando si fa una ricerca su Google My Business, però c'è anche un'app, Google Maps, che è un'app tra le prime dieci più usate al mondo che Google dichiara un miliardo di utilizzatori giornalieri. Quindi c'è una tra le più utilizzate al mondo dove si può apparire in modalità anche gratuita purché si sappia come fare. Chiaro. Tu parlavi di una versione base e gratuita, quindi esiste una versione a pagamento di Google My Business. No, diciamo, non esiste una versione a pagamento, però in settori ultracompetitivi, per poter emergere, chiaramente Google sta spingendo anche Google Ads, sempre su Google My Business. Nei Stati Uniti d'America, in alcune città, non in tutte, in alcuni settori, ad esempio quelle che lui chiama home services, quindi tutti i servizi a domicilio idraulico, elettricista, antennista, quello che fa caldaie, eccetera, devono fare una procedura diversa, quindi comincia piano piano a mettere alcune funzionalità legate a Google Ads. Nella versione base è gratuito, presumo che nella versione base rimarrà sempre gratuito, però per poter emergere bene bisogna cominciare a pensare a fare un minimo di pubblicità, anche perché poi tutto Google si basa sulla pubblicità, vuol dire, se vi ricordate quanto costavano i navigatori satellitari in auto qualche anno fa, che costavano 1000 euro, 500 euro, ora Google te lo dà gratis e qualcuno deve comunque pagare, quindi devono pagare le aziende che fanno le cose lì sopra, c'è il discorso e poi quello, e gli utenti stessi, quindi noi utilizzatori, paghiamo fornendo i nostri dati, c'è sempre la regola che se il prodotto è gratis, il prodotto sei te, in realtà, quindi per esempio tutte le location history di cui si parlava prima, cioè come ci muoviamo, eccetera, sono informazioni preziosissime per Google, chi sa come ci muoviamo, quali sono i locali, ma anche i monumenti più visitati, eccetera, eccetera, quindi sono informazioni interessanti, però diciamo basta essere coscienti sul fatto che non è che è gratis se le stiamo pagando con i nostri dati, ecco quello è chiaro. Detto questo, quello che ti chiedono solitamente le attività local, se ti occupi di online marketing, è mi inserisci su Google, per cui vogliono comparire nel momento in cui appunto viene cercata l'attività, piuttosto che viene cercato che nel suo centro assistenza a iPhone Palermo banalmente, e lì entrano in gioco due fattori, cioè che Google My Business in realtà non è solo quello, vorrei che tu spiegassi un po' meglio perché un'azienda dovrebbe inserirsi in Google My Business e cosa è effettivamente, e il secondo riguarda il posizionamento, cioè poi ti cominciano a dire ah ma c'è il mio competitor che è più sopra, come faccio a salire, come accaduto solitamente a queste domande. Allora, l'attività e essere presente lì sopra, ripeto, oramai è importantissimo, nel momento in cui si cominciano a prendere i dati, cioè considerando che solo l'app, quindi non sto parlando del motore di ricerca, solo l'app che abbiamo installato sul cellulare è usata da un miliardo di persone al giorno, e Google, gli ultimi dati che ha presentato qualche mese fa, diceva che ci sono 9 miliardi di telefonate al mese tramite l'app di Google Maps alle attività commerciali in tutto il mondo, per carità. Ci sono 3 miliardi di richieste di indicazioni stradali, e non è che te vai a divertirti, cosa faccio ora, vado a richiedere le indicazioni stradali da dove sono al ristorante oppure al centro assistenza iPhone, no? Sono dati reali di quanto sia utilizzato. Senza parlare poi di tutte le ricerche che si fanno su Google e dove ci appare il box local. Sono comunque un numero impressionante, ora sono diverse centinaia di miliardi le ricerche che facciamo ogni giorno su Google e all'incirca un terzo più o meno sono locali, quindi cerchiamo attività locale, quindi è estremamente importante apparire lì, apparire con chiaramente la logica poi è sempre quella di SEO, cioè abbiamo una richiesta esplicita, quindi sto cercando appunto il centro di assistenza Palermo o nei dintorni, lo voglio essere apparelli, quindi diventa veramente veramente importante esserci, ma poi per dire, per farti un esempio pratico al contrario, c'è un e-commerce di arrosticini abruzzesi, ok? Che è un solo e-commerce, quindi c'hanno un capannone, producono gli arrosticini e li consegnano entro 24 ore, ok? Questo qui con l'altra agenzia, cioè c'è mio fratello che li fa la SEO, mi dice Luca, ti devo chiedere una cosa, ogni tanto abbiamo qualcuno che bussa alla porta e acquista e vuole gli arrosticini, però noi non siamo autorizzati a venderli, perché non abbiamo l'autorizzazione al pubblico, cioè non so come è la questione tecnica, lì praticamente il fatto solo di essere presenti come azienda, gli portava la gente che passava di là, cercava arrosticini, lo trovavano e ci andava lì, però no, vendeva solo online, ok? Quindi c'è giusto per dirte al contrario di gente che in questo caso ha il pane e non ha i denti per vendere, no? Esatto. E queste cose qui non è la prima che mi capita, a me è capitato anche qui recentemente un'industria veneta che produce scarpe, anche un marchio famoso, che però vende solo tramite grossifti, eccetera, e anche lì mi diceva cioè noi non abbiamo nemmeno spaccio, ogni tanto viene qualcuno che si presenta in fabbrica che vuole le nostre scarpe, quindi anche lì lo cerco, giusto per darti proprio un'idea di quanto le persone lo usino anche se te non vuoi. Ok. Poi, il discorso come fare ad apparire? Beh, Google ha fatto una pagina ufficiale in cui spiega in maniera estremamente generica i passi da fare. Come il tuo solito d'altronde, Dà delle indicazioni molto. Però già è importante perché quelle poche che dà sai che sono vere, no? Sono quelle. Poi sul resto bisogna fare. Allora, cosa bisogna fare? Beh, intanto verificare la scheda, quindi prenderne possesso, c'è una procedura in cui bisogna dire io sono il proprietario, eccetera. caricare tutte le informazioni possibili e immaginabili lì sopra, quindi foto, tante foto, soprattutto in quell'attività dove le foto sono molto importanti, tutti i dati, descrizioni, i post, i post cominciano ad essere abbastanza importanti, c'è un'impressione io, questo qui non l'ha scritto Google, però un'impressione che le schiede vive dove c'è molta attività, sembra che abbiano un miglioramento anche nella visibilità. È come se le schiede che in qualche modo molto curate vengano considerate meglio da Google perché c'è più interazione. Quindi queste sono le cose base da fare. Ad esempio, interrompo un secondo perché ho due domande. La prima è, in pratica tu stai dicendo che l'ideale per un'attività local oltre ad inserire tutte le informazioni, verificare la struttura, caricare le foto, è quella di creare un piano editoriale, quindi di andare a mantenere viva questa attività. La seconda domanda, quindi ora parliamo del piano editoriale, la seconda domanda e poi ti lascio la parola è, a proposito di foto, ci sono alcune attività che a volte hanno delle foto che sono magari completamente sbagliate perché magari un utente ha caricato una foto che non c'entra nulla. Cosa deve fare il proprietario dell'attività in quel caso? Come fa a rimuoverla? Allora, il piano editoriale, sì, diventa importante perché bisogna capire intanto come parlare con le persone. Il piano editoriale non deve essere di quello di tipo standard, ma deve essere, ad esempio, le foto per alcune attività si comunica per foto. Pensiamo anche ai ristoranti, pensiamo a tutte le attività moda, design, cioè una buona parte comunica per foto, quindi avere un flusso abbastanza costante di foto comunica per foto. Ma ti dico anche di più, se te cerchi cotoletta alla milanese, a Milano, ti appaiono le schede con la foto della cotoletta. se te cerchi hotel con piscina a Palermo, ti escono le foto degli hotel con la piscina. Quindi, se te non hai la foto con la piscina, magari non esci, magari. Chiaro, chiaro. Ok, perché Google è in qualche modo avvantaggiato rispetto a quelli che hanno l'hotel con piscina a Palermo e non hanno caricato la foto della piscina. quindi la comunicazione e il piano editoriale deve essere multimediale e comprendere queste cose perché Google lo legge. Ok, ed è veramente, la tecnologia di Google è veramente potente. Poi ci sono anche i post, i post vanno fatti, cioè non c'è bisogno di farne uno al giorno, però i post cominciano ad avere il loro peso anche a livello proprio comunicativo e anche lì è bene farne una settimana, uno in quindici giorni per comunicare quello che è interessante anche proprio le offerte dirette. Questo sicuramente sono delle cose che vanno fatte. Poi, periodicamente bisogna anche curare tutto l'aspetto reputazionale. Cosa significa? Significa recensioni, rispondere, prima di ogni altra cosa, poi magari parliamo di come farle, le domande e le risposte che ora per l'emergenza Covid sono chiuse, però c'è le persone che fanno le domande e bisogna rispondere e le foto di cui parlite, le foto caricate degli utenti. Quindi per prima cosa bisogna monitorarle, fare proprio un monitoraggio e quelle che sono fuori, ma io mi sono capitato di tutto di più, considera che c'ho un cliente che è una catena di moda che andiamo a controllare perché abbiamo fatto uno script per controllare queste cose, quindi abbiamo un programma che le controlla. questa qui, la foto principale è il logo di Intimissimi, ma lui non è Intimissimi. Non è Intimissimi, ok. Ok, qui te lo dite. L'altro giorno, no, ieri. C'è bleccata anche nella local, c'è bleccata anche nella local, Intimissimi. questo qui probabilmente è lo sbaglio, però un altro che mi è capitato, post italiane, vado a vedere post italiane, non ricordo se è Napoli, la foto principale è la foto di una concessionaria auto e lì è perché non vengono curate, quindi bisogna fare un monitoraggio, curare e poi segnalare a Google dicendo guarda che questa foto non c'entra niente con me ed è abbastanza veloce nell'eliminarla, però bisogna monitorare e controllare queste cose qui perché ne succedono tantissime di foto che non c'entrano niente o che addirittura ripeto intimissimi il logo su di un brand di moda che non è intimissimo cioè non è proprio bello ma di questo ne capitano tantissimo quindi c'è monitoraggio prima di ogni altra cosa e poi correre all'azione cioè eliminarlo. Però effettivamente quello che può fare l'utente il proprietario della scheda è semplicemente segnalarlo e poi sarà Google ed eliminarlo. Sì sì però sulle foto quelle lì che sono proprio sbagliate è abbastanza veloce quello dove è lento è quando si dice la foto non mi piace allora lì semplicemente però è relativa al business allora lì non la toglie velocemente lì non la toglie velocemente. chiaro e invece a proposito di foto parlavi di foto principale sì come vai di tanto in tanto appunto prende queste foto le inserisce come foto principali Google perché allora lui si basa lui su diciamo varie sorgenti di foto una siamo noi come proprietari quindi dobbiamo comunque caricarne parecchie due sono le cosiddette fonti autorevoli che spesso non è il proprietario e quindi le local guide per esempio no però per dirti sugli hotel capita che prende foto da booking ok oppure prenda foto da siti veramente tosti se poi non ne trova le prende dagli utenti quindi gli utenti che caricano le foto magari fatte non dico parolacce sono fatte prima male non avendo nient'altro e avendo foto che però sono foto di quell'attività allora le prende quindi c'è cosa dobbiamo fare noi intanto caricare foto noi di alta qualità e monitorare che non ci siano foto sbagliate insomma questo qui va fatto perché insomma se andate a vedere proprio le statistiche interne di Google My Business le visualizzazioni di foto hanno numeri veramente impressionanti perché sono le prime cose che ti appaiono e soprattutto in alcune attività la gente preferisce scogliere foto come se fosse un Instagram piuttosto che leggere tutto quello che c'è da leggere insomma chiaro un'altra domanda sempre a proposito di foto pubblicate dagli utenti o di problemi con le schede My Business ti è capitato penso di sì che la scheda My Business non appartenesse al proprietario dell'attività local sì capita anche perché ultimamente ha messo una procedura strana di verifica però c'è anche una procedura per riprenderne possesso è una procedura un po' lunga quando si fa verifica questa scheda a un certo punto Google ti dice guarda che questa scheda è già stata verificata da un altro però sotto c'è poi il link per richiedere il possesso e tendenzialmente funziona che Google manda un'email all'attuale proprietario il 90% dei casi è gente che si è scordata la password dell'account esatto 95% diciamo cioè è che è fatta dal famoso cugino poi il cugino è andato in Australia e quindi si è scordato allora si è perso la pagina contro il cugino a quel punto lì tendenzialmente se passano da 3 a 7 giorni e non c'è stata risposta Google toglie la verifica e quindi te la puoi verificare di nuovo se invece in quei casi rari c'è qualcuno che risponde ed è malevolo e risponde non la scheda è mia lì è un pochino più una procedura complessa dove bisogna chiamare Google dimostrare che sei il proprietario e magari ti ritorni indietro però ecco questa è la procedura che c'è più o meno standard e funziona quasi sempre tranne casi mi è capitato casi di uno che erano due soci sono divisi quindi lì sono andati ai casi però sono casi veramente rari la maggior parte delle volte è che o l'ha fatto un dipendente che poi è andato via con un account che non ha comunicato al proprietario però a quel punto lì lo recuperi subito oppure si è proprio scordato l'account con cui l'ha fatta per cui bisogna riprendersi riprendere possesso la proprietà chiaro qual è invece la più frequente che trovi quando prendi un cliente che ha una scheda Google My Business il fatto di che non la considerino come strumento di business adeguato insomma non la considerano la lasciano ai margini mettono il numero di telefono tutto il sito web sì è abbandonato considera che in alcuni settori ti parlo della ristorazione le schede My Business io ho dei casi in cui fanno anche 20-30 volte le visualizzazioni del sito web quindi c'è a livello di business l'utente ma proprio c'è tipo fanno 1000-1500 visite al giorno le schede e il sito web ne fa 100 cioè chiaro chiaro non c'è paragone quindi allora chi spieghi non so perché sia importante perché a questo punto è abbastanza chiaro ma come un'attività può guadagnare di fatto da queste visite quindi a queste 1500 visite come può fare efficacemente Google My Business se non basta e qui faccio l'avvocato del diavolo se non basta mettere nome indirizzo e numero di cellulare no no è lì dicevo intanto prendi la scheda la curi ci metti tutti i dati fatti bene perché poi di campi cominciano ad essere ce ne tanti comincia in alcuni settori a mettere anche il contattami direttamente quindi curare le recensioni le recensioni sono e questo lo dice proprio Google in quella famosa pagina sono un fattore di ranking local non sul sito tradizionale però più recensioni si hanno con voti buoni più sale la scheda questo lo dice proprio chiaramente Google quindi non abbiamo dubbi ok quindi avere tante recensioni chiederle altre cose il sito web collegato quindi fare il SEO tradizionale sul sito web collegato aiuta a migliorare il ranking anche sulla sulla scheda My Business ok tant'è che chi fa SEO classica delle volte ha delle schede posizionate bene non sa manco perché poi gli dice guarda perché hai fatto SEO fatto bene hai collegato la scheda Google vede che comunque c'è queste cose qui altre cose Google dice che comincia a usare i dati anche di di in qualche modo di fruizione della scheda cioè il fatto che tu considera che le schede local sono in ambito locale ad esempio te dicevi Palermo prima quindi nemmeno in alcuni ambiti nemmeno su tutto il comune proprio a livello di zona ok perché se te cerchi c'è alcune attività se te cerchi un fornaio oppure te cerchi una lavanderia a gettoni non è che sei disposto a farti 5 km la cerchi sotto casa e quindi lì non ha manco senso puntare a lavanderia a Palermo ma ha senso fare lavanderia vicino a me e basta quindi questo qui va poi chiarito poi in quei casi lì Google ha quindi chiaramente un limite un limite nel senso che dice io so che devo fare local in questo comune o in questo quartiere ok a quel punto lì mi vedo tra tutte le attività che fanno lavanderia oppure che fanno riparazione iPhone chi è più cercata ok a quel punto lì te sai chi è più famoso perché magari ha fatto anche pubblicità di fuori e questo qui lo considera Google quindi fare attività promozionale anche di tipo offline quindi radio cartelloni eccetera che poi ti spinge a cercare quello lì è un fattore che Google usa chiaro quindi c'è queste cose qui sono importanti quindi fare pubblicità di tipo classico o comunque essere famoso per cui c'è molto passaparola è importante altre cose che però sono in diciamo decadenza sono le lecitazioni quando nacque la local tendenzialmente molti attività commerciali non avevano sito web per cui semplicemente Google non sapeva dove prendere le informazioni se non le poteva prendere dal sito web da dove le prendeva e quindi si inventò le citazioni praticamente dice se uno mi scrive su di un sito web il nome dell'attività l'indirizzo e il telefono io so che stai parlando di riparazione iPhone Valerio Novelli ok senza link e quindi hai iniziato a usare questi dati e li usa ancora ma sono valgono poco perché perché con il fatto che sa come ci muoviamo Google ha dati di primo pelo di prima mano molto più forti rispetto a quelli che all'epoca poteva dare un sito esatto quindi le citazioni valgono ancora ma molto molto meno rispetto a prima tendenzialmente molto molto meno ok ok quindi bisogna lavorare su queste cose qui capire come fare richiedere tante recensioni ai migliori clienti e questo qui aiuta in maniera forte a far salire il ranking tendenzialmente questo ok prima di parlare di recensioni però io volevo capire se ci vuoi raccontare qualche case history di qualche tuo cliente che effettivamente grazie a Google My Business di fatto è riuscito a crescere a livello di fatturato di clienti quindi qualche informazione su come effettivamente Google My Business non solo sia importante perché le persone cercano ma sia importante perché poi le persone vanno nei risultati che ha trovato Google My Business sì beh sì diciamo un lavoro da qualche anno per una catena di abbigliamento che è quella citata prima lì abbiamo avuto un incremento dei dati di Google My Business tipo anche 4-5 volte quindi un aumento di 400-500% nel corso degli anni perché si cresce tanto e c'è stato un cioè lì stiamo cercando la misurazione della gente che entra in negozio non è così facile insomma però sono aumentati mediamente anche gli ingressi in negozio e in alcuni casi anche gli acquisti online perché la gente poi c'è proprio un approccio omnichannel quindi quando te cerchi un brand che ha anche negozi fisici e negozi virtuali a fianco ti appare comunque la scheda local del punto più vicino e se quella è messa bene no quindi uno ti cerca e ti appare alla fine aumenta la conversione anche sull'e-commerce normale se uno gli è indifferente dove acquistare perché ha avuto la comunicazione positiva magari tante stelle e una buona presentazione sulla parte local quindi questo qui ci sono anche delle interazioni che sono non facilissime da misurare infatti l'aspetto della misurazione è ancora difficile laddove invece si basa molto sulle telefonate e business che si basano le telefonate tipo idraulico loro non esiste nient'altro che il telefono così come anche per i ristoranti lì ad esempio dove abbiamo misurato abbiamo messo un numero di telefono dedicato per misurare lì c'è stato un numero 150% in 6 mesi di aumento delle telefonate 150% in 6 mesi sì perché poi sai se te fai un'attività che comunque devi andare presso il cliente perché c'è un'emergenza tipo elettricisti idraulici autospurgo tutte queste cose qui insomma e lì funziona solo il telefono non è che fai niente oppure i fabbri che rimani chiuso fuori la prima cosa lì se te ottieni una buona visibilità c'è il problema ti chiami è quello ma paradossalmente dico a me vengono in mente anche degli esempi di chi potrebbe giocare a livello locale di google my business può essere anche un gommista che ripara le gomme tu hai una foratura cerchi gommista o cerchi qualche vulcanizzatore banalmente e se sei inserito su google my business spunti e quindi effettivamente puoi trovare clienti esatto se non ci sei di fatto ti perdi dei potenziali clienti esatto ma un dentista esattamente io sto lavorando per dire con un centro medico un poliambulatorio e lì funziona che vai dal medico ti segnala un'analisi da fare se te non hai il tuo di riferimento la cerchi e va a vedere quello più vicino dove la puoi fare ok e sono così insomma quindi c'è la logica se ho una necessità o un bisogno o un desiderio lo cerco in questo caso alcuna attività cioè se ti si rompe la caldaia e sei in quarantena devi comunque chiamare uno che te la sistema certo quindi a quel punto lì se te non ne hai uno di riferimento lo cerchi i primi che trovi sono quelli che chiami finisce lì e quindi insomma questa è un'attività che chi lavora su base locale deve sfruttare in maniera piena in maniera piena è chiaro che varia molto categoria per categoria per dire una categoria che ho studiato molto bene sono quelle dei ristoranti che loro lavorano si basano sulle google maps se te sei se te sei in una località turistica dove c'è afflusso di persone nuove io ho dei casi in cui il 60% delle persone che venivano al ristorante venivano alle google maps da google my business perché te sei in vacanza non conosci niente cerchi ti appare google my business google maps con le recensioni già fatte dove è vicino a te come vai e alla fine ti convince e ci vai ok punto cioè quindi la cosa che devi fare è puntare una buona parte dei tuoi investimenti lì sopra per svilupparlo al meglio punto chiaro un'altra domanda che mi è venuta così su due piedi parliamo a proposito di settore turistico se io ho un bimbi oppure un appartamento una casa vacanze che affitto mi conviene inserirla su google my business perché anche lì penso che non tutti si inseriscono però di fatto se poi uno cerca magari bimbi o casa vacanze se io ci sono la pagina ben curata con delle belle foto magari delle belle recensioni non so se come dicevi tu google si prende anche dalle fonti autorevoli che possono essere airbnb o booking magari mi riesco a posizionare riesco a prendere qualche cliente in più sì le attività le strutture ricettive sono tra quelle più ricercate su my business quindi sono sono molto importanti sulle bimbi nessun problema sulle case vacanze in teoria non sono ammesse su my business a meno che non abbiano una reception ok quindi c'è perché sono borderline hanno fatto molti abusi eccetera però sono attività che sono un settore un po' diverso tant'è che gli cambia anche la grafica google però vale la pena esserci e vale la pena investirci perché sono veramente utilizzate alle persone sul turismo parlate un po' diverso rispetto al cioè lì non cerchi vicino a me un bimbi non lo cerchi prima quando sei a casa programmi le vacanze nel 2021 oramai perché il 2020 è perso però ti comincia a cercare l'attività cioè il luogo scusa la località volevo dire la località e poi ti cerchi anche il bimbi quindi c'è lì il la funzionalità delle mappe è anche importante insomma quindi sapere dove sei cosa fai e poi anche le recensioni quindi c'è comincia ad avere anche il booking online che puoi fare o tramite le OTA o direttamente tramite hotel ads se hai un sistema di booking diretto chiaro chiaro questo insomma sempre a proposito di settore turismo quindi rimaniamo nel turismo e nella ristorazione ed entriamo nel mondo delle recensioni e ristorazione perché mi è capitato anche a me qualche cliente che magari lamentava il fatto di recensioni dei competitor piuttosto che recensioni di piatti che lui non fa quindi che non sono presenti nel menu che cosa ci vuoi dire alle recensioni aprimo il capitolo recensioni allora le recensioni come dicevo prima sono molto importanti proprio sono un fattore di ranking prima di ogni altra cosa ma sono anche un fattore di comunicazione molto importante perché in tutti i campi soprattutto nel settore turistico ricettivo ristorazione sono un elemento per cui si sceglie un ristorante quindi dobbiamo curarle al massimo il problema classico delle recensioni fasulle c'è c'è anche su Google My Business ma da da qualche mese quindi da dicembre almeno considera che io sono stato all'incontro di Google a ottobre il presente si è parlato di come combattere lo spam e l'ha implementato da dicembre Google ha in atto un servizio automatico di controllo recensioni basato anche su intelligenza artificiale per cui ne toglie di mezzo talmente tante che toglie anche quelle buone quindi questa intelligenza artificiale non è tanto intelligente diciamo ci sono falsi positivi però ne sta togliendo di mezzo veramente tante non tutte tutte però diciamo che sta facendo uno sforzo notevole proprio per combattere queste cose qui e lo fa su tanti livelli perché controlla l'utente come si è mosso controlla se effettivamente è stato lì controlla se ha fatto nello stesso momento recensione a Palermo e recensione a Sondrio quindi sto vedendo che la sta prendendo seriamente perché diciamo che si era aperto scusa se ti interrompo diciamo che si era aperto un mercato che era quello della vendita di recensioni di fatto quindi le persone per cercare di migliorare il posizionamento di avere più recensioni le acquistavano e quindi Google sta cercando di arginare il problema appunto facendo una serie di verifiche su queste recensioni sì sì no ma ma tante poi ti capita che praticamente ti fanno se te fai la recensione te la vedi ma pubblicamente non si vede perché tendenzialmente Google te la te la mette lì ti ti dice ok non è vera perché ci sono delle cose che non mi torno e la lascia lì e succede veramente spesso negli ultimi mesi sono tanti la gente che mi diceva ma io ho fatto la recensione non si vede io me stesso cioè sul sul mio account io che ho fatto un po' di recensioni diciamo di prova per dire su attività a un certo punto me l'ha tolte tante sì sì ma è proprio vero insomma quindi sta lavorando molto su questo poi la paura c'è sempre però bisogna cominciare a gestire bene le recensioni perché hanno un impatto fortissimo sul business cioè c'è un'azienda spagnola che non mi ricordo come si chiama che ha calcolato sulla facciamo una figura vabbè che ha calcolato praticamente che per ogni punto decimale di aumento delle recensioni aumentava proprio il business del il fatturato dell'azienda ok mediamente quindi bisogna imparare a gestirle a chiederle se otteniamo recensioni negative se sono vere e sono negative capiamo cosa si è sbagliato cioè io noi seguiamo con mio fratello un grosso albergo in un villaggio turistico nel sud e questo aveva recensioni 3.8 3.9 quindi mediocri diciamo e ci ha chiesto potete farci delle recensioni di guarda no piuttosto di studiamo qual è il problema e si fa abbiamo studiato il problema il problema era che i ristoranti cioè tutte le recensioni negative erano sul ristorante e non sull'albergo in particolare sul servizio al ristorante le abbiamo presentate in report va male l'anno dopo ci ha lavorato sul servizio e sono arrivate a 4.2 quindi c'è si capisce il problema 4 punti percentuali di fatto 0.4 sì sì però insomma già vai sopra il 4 insomma quindi già ha un impatto interessante basta capire il problema e lavorarci sopra ecco cioè quindi bisogna cominciare a gestirle e anche a chiederle in maniera proattiva perché sai poi shit happen quindi ogni tanto capita qualche cosa di negativo cioè volente o nolente però se te già cominci a chiedere recensioni a tutti avere tra l'altro c'è una una ricerca fatta che tra l'altro ho ripubblicato sul mio blog di local strategy che praticamente il l'impatto migliore delle recensioni sugli acquisti sia quando si ha recensioni tra 4.2 e 4.8 perché se ne hai troppe puzza e quindi la gente tende a non fidarsi quindi c'è averne qualcuna negativa fa parte del gioco perché ti capita insomma che qualche cosa negativa capi insomma purché vada bisogna gestirla adeguatamente punto chiaro magari bisogna trovare degli script ovvero delle formule per chiedere queste recensioni in maniera efficace che non significa necessariamente offrirgli qualcosa di gratuito ma riuscire ad avere un approccio che permette alla persona di lasciare con piacere la recensione perché il problema qual è con le recensioni che è un problema che c'è sempre stato che di fatto io se ho una brutta esperienza lo vado a scrivere se ho un'esperienza eccezionale non le vado a parlare perché la do per scontata esattamente devo riuscire a trovare il metodo come attività locale di farmi lasciare una recensione anche e soprattutto quando ho delle buone esperienze beh la cosa più banale è chiederle cominciare a chiederle in maniera sistematica se si ha un un email perché si raccoglie l'email mandarle anche un email con la richiesta di recensioni in molti ristoranti anche nelle grandi metropoli ti portano alla fine anche una cartolina di farci una recensione eccetera quindi cominciare a chiederle in maniera proattiva magari indirizzandoli anche quindi dicendo perché ci hai scelto cosa hai comprato apprezzato e perché fra l'altro questo è una delle cose che non è molto chiaro però se hai un ristorante e fai una cosa tipica non lo so tipo la caponata mi viene in mente insomma io ho la moglie siciliana sai no? te l'avevo detto e la gente ti scrive nelle recensioni che ho apprezzato molto la caponata per quella keyword la probabilità di apparire in cima per keyword tipo caponata palermo diventa molto più alta chiaro quindi se noi chiediamo le recensioni e gli facciamo scrivere cioè gli chiediamo di scrivere cosa ha apprezzato di più questa cosa qui poi in maniera indiretta si ripercuote anche sul ranking per quelle parole chiave ok questa è un'altra chicca molto interessante che ci sta dando cioè il concetto è non dire lasciami la recensione ma dare in qualche modo un format quindi fare magari delle domande che aiutano la persona lasciano la recensione non come tutto buonissimo consigliato ma con qualcosa in più di utile ma poi non è niente di nuovo è quello che fa Amazon danna vita sugli acquisti online esatto cioè quindi bisogna semplicemente creare un sistema chiederle più o meno a tutti e cominciare a raccogliere quando si arriva qualcosa di negativo cerchiamo di imparare da quella recensione negativa e se poi cominciamo a chiedere qualcosa di falso invece ecco però se noi cominciamo a chiedere a tutti no a quelli i nostri ospiti veri o tutti quelli che entrano in negozio o qualsiasi cosa le recensioni chi fa quelle false non riuscirà a stare dietro quindi diventeranno insignificanti ok c'è anche questo sempre supponendo che riescono poi a superare questa barriera che google sta piano piano inserendo che ripeto alcune volte ci riesce a farlo non sempre dobbiamo essere chiari perché ci sono ancora quelle fasulle poi anche qui da una ricerca che hanno fatto la maggior parte delle recensioni fasulle sono quelle a 5 stelle quindi ricordiamoci perché poi i ristoratori si incavolano quando ottengono recensioni a una stella però la maggior parte delle recensioni false sono a 5 stelle questo diciamolo chiaro chiaro secondo ricerche fra l'altro non perché lo stiamo dicendo noi sono dati stati chiaro un'altra domanda come possiamo trarre beneficio dalle statistiche di google my business cioè io devo guardare le statistiche ed essere felice perché ho fatto 1500 visite o devo studiare le statistiche e capire quelle 1500 visite se sono state effettivamente un ritorno per me oppure no cosa devo andare a studiare bisogna diciamo i dati migliori sono quelli con l'euro davanti quello sempre insomma che però le statistiche di google non ci danno quindi bisogna in qualche modo ricavarlo ci sono comincia a dare un sacco di numeri google alcuni poco significativi altri di più ad esempio le visualizzazioni sono dati poco significativi perché magari appari sulla mappa sei a fianco a un monumento tutti ci passano hai n milioni di visualizzazioni però per carità ha lo stesso effetto di un cartellone per strada 6x3 quindi c'è certo il cartellone lo paghi qui lo paghi molto di meno per cui però sono poco significativi cominciano ad esserci valori molto più interessanti che sono le ricerche quindi la gente che ha cercato la tua attività o una keyword e appari quelli sono dati importanti e poi ci sono anche i valori tipo richieste di indicazioni stradali se uno ti chiede le indicazioni stradali per venire da te non è una cosa che lo fai per caso cioè è perché vuole venire da te tant'è che c'è una statistica per cui il 40% delle richieste di indicazioni stradali si traduce in un'entrata in negozio quindi sono dati importanti quindi quello lì va proprio per quei business 40% la media poi dipende chiaramente però d'altra parte se ti chiedi perché devi andare a chiedere un'indicazione stradale certo non è che è una cosa che ti trovi lì e lo fai no se lo fai apposta cioè è una è un impegno che uno si prende perché dice fammi vedere bisogno probabilmente cioè nel momento in cui lo cerchi perché vuoi raggiungere quel post esattamente esattamente le telefonate è un altro valore importante perché vuol dire che se uno ti sta telefonando è perché diciamo è arrivato già a chiederti qualcosa quindi sicuramente questa è una cosa che viene sottovalutata e ti fermo un attimo nel senso che spesso le persone chiedono anche a me ma scusa Google come fa a capire quanta gente mi chiama se stai cercando su Google clicchi sul numero di cellulare di fatto Google ha esattamente il dato delle persone che ti stanno chiamando quindi è fondamentale capire anche questo passaglio perché devo inserire il numero di telefono su Google My Business perché se non lo inserisci le persone non ti possono chiamare esattamente sì ma poi ci sono questa mentalità imprenditoriale che va un po' cambiata perché queste sono grandi opportunità e vanno e vanno e vanno sfruttate a pieno insomma fino a quando appunto rimarranno così gratuite davvero sono tante quindi questi sono i valori principali dalle statistiche poi quando ad un livello successivo si hanno le persone che entrano in negozio beh lì se una ti entra in negozio beh c'è lì hai fatto bingo cioè se uno entra in negozio comunque il 30% la metà qualcosa l'acquistano insomma no se è un ristorante non è che vai a vedere come un ristorante cioè hai tasti una volta che ti è entrato o è pieno o l'hai cacciato via la persona cioè no quindi lì comincia ad esserci già un valore veramente importante come come dato però questo qui non lo possono vedere tutti insomma questo qui bisogna bisogna dire ecco chiaro altra domanda e poi siamo sul finire a proposito di digitalizzazione chatbot ti ho iniziato dicendo che la settimana scorsa ho parlato di chatbot e di digitalizzazione su facebook no quindi tutti i chatbot che rispondono eccetera eccetera so che tu in realtà hai sviluppato un servizio hai un software che in qualche modo fa automazione per quanto riguarda google my business quindi si tratta di local marketing automation mi spieghi come funziona di cosa si tratta? sì sì allora tendenzialmente è quello che facciamo siccome c'è una serie di per esempio in questo periodo con la chiusura con il lockdown le aziende devono cambiare gli orari su google my business sulla pagina del sito web sullo store locator su facebook e su altri quindi quello che facciamo noi è tendenzialmente accentrare i dati e spararli ovunque sia possibile spararli quindi prima di tutto google my business ma anche il sito web bing place apple facebook eccetera quindi queste le cose più banali altre cose che facciamo poi è ad esempio controllare che non vengano che non avvengono modifiche alla scheda che qualcuno che la foto che hai inserito te sia effettivamente la foto che è in cima e non la foto presa a caso da google quando hai una catena ad esempio accentriamo le recensioni abbiamo ad esempio anche un autorisponditore alle recensioni base cerchiamo di tendenzialmente automatizzare da una parte tutte quelle operazioni che sono onerose e tediose ok per darti un numero quindi anche un sistema perdonami di monitoraggio delle recensioni per cui banalmente se arriva una recensione da una stella ti arriva un alert piuttosto che una notifica di modo che può rispondere in maniera sì 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 proprio per ditti su una catena di 200 negozi italiane abbiamo risparmiato il 62% di ore lavorate in un anno proprio perché abbiamo automatizzato un po' di passaggi dall'altro lato poi abbiamo la parte più di marketing di visibilità quindi abbiamo una serie di funzioni che permettono di amplificare un po' la presenza quindi di per esempio abbiamo un alert abbiamo un controllo delle cose che servono sulla scheda quando ne hai tante da gestire cominciamo a dire guarda che questa scheda ha bisogno magari di più foto ha bisogno di gestire gli orari possiamo cambiare gli orari in maniera massima quindi abbiamo una sorta di automazione da una parte proprio puramente gestionale un'altra cosa che facciamo è se te hai già un database interno con i dati ci attacchiamo lì ad esempio lo stiamo facendo con Ford questo loro hanno un gestionale i concessionari oramai non vendono manco più Google My Business perché sul gestionale inseriscono tutto quello che gli serve e automaticamente aggiorniamo le schede questo qui ottimo chiaro chiaro io poi consiglio a tutte le persone che hanno visto questa live a quelli che guarderanno il video ascolteranno il podcast e di seguire anche il tuo blog il blog di localstrategy.it dove ci sono tantissimi tutorial informazioni ricerche statistiche ci sono articoli che sono utilissimi per tutte le attività local e lì condividete un sacco di informazioni gratuitamente con tutti gli utenti chi vuole veramente capire come sfruttare questo business può partire tranquillamente da là e avere già una una bella base fondamentalmente per partire con questa digitalizzazione dell'attività local non so se vuoi aggiungere qualcosa a proposito del blog no questo c'è anche un gruppo facebook che si chiama sempre local strategy se interessa insomma che è la prosecuzione del blog sì dove magari ci si confronta anche no che vengono fatte domande degli utenti ognuno dà le risposte come risolto problemi quindi molto molto interessante sì sì decisamente Luca io ti ringrazio tantissimo per questa live spero che sia utile a tutte le attività soprattutto oggi appunto a tutte le attività che si stanno rendendo conto di quanto sia importante abbracciare ne parlavo anche l'altro giorno ho fatto un video sulla digitalizzazione di quanto sia importante digitalizzarsi e entrare nell'online fondamentalmente perché non è un qualcosa che possiamo rifiutare o da cui possiamo tenerci fuori oggi più che mai quindi grazie per il tempo che ci hai dedicato se vuoi aggiungere qualcosa per no niente vi saluto intanto però ecco curate bene la scheda Google My Business perché è anche tutto l'ecosistema local diciamo minore perché comunque se avete un'attività locale quando si riaprirà e si riaprirà diventa veramente una un ha un impatto veramente importante con un investimento minimo se non gratuito se riuscite a farlo da soli insomma chiaro vi invito come sempre a lasciare i commenti se avete domande iscrivervi al canale se state guardando il video su YouTube seguire la pagina Facebook mettere un mi piace e ci vediamo nella prossima live ciao Luca e grazie ancora per il tuo tempo ciao a presto ciao ciao a presto a presto